Quando avevo 9 anni, ho comprato il mio primo telescopio. L'ho fatto perché avevo la necessità, il bisogno dell'ente, di guardare un po' più lontano rispetto all'orizzonte che avevo di fronte a casa. E più guardavo lontano, più vedevo cose lontane, più sentivo il bisogno di vederne e di averne di più. Sapete, io ho quasi svegliato l'intero condominio la prima notte che puntando col telescopio Saturno sono riuscito a vederlo. Potete immaginare che per un bambino vedere quel puntino con quel poco di anelli che si riusciva a vedere lontano, lì, sospeso nel buio, è una cosa che ti dà una sensazione che è tra la paura, la meraviglia e lo spavento. Beh, quella notte, in fondo, è stato il mio primo passo di un viaggio che dura a tutt'oggi. Così le scienze planetarie sono diventate il mio mestiere. È un mestiere nel quale, è un mestiere meraviglioso, nel quale quello che si fa è cercare di capire perché le cose sono andate nella maniera in cui sono andate sulla Terra e su altri mondi. E cercare di capire qual è la relazione che c'è tra queste cose. Perché in fondo poi studiare la storia di un pianeta significa studiare la storia di un cambiamento e capire che niente è stato sempre com'è. Nascita, evoluzione, estinzione, rinascita, cambiamento globale, cambiamento climatico, attività biologica, attività geologica, tutte queste parole fanno parte in maniera imprescindibile del linguaggio con il quale si racconta la storia di un pianeta ed in particolare sono estremamente vere per la Terra. La Terra che ha vissuto nel corso dei milioni, dei miliardi di anni, degli sconvolgimenti epocali. Questi sconvolgimenti hanno una caratteristica. Hanno una caratteristica di raccontare la storia di un mondo e questa storia si estende per milioni di volte il tempo medio della nostra vita. Quindi capite bene che provare a raccontare questa storia con il linguaggio della nostra vita quotidiana è un'impresa difficile. Perché di quotidiano, del nostro senso dell'alzarci la mattina, dell'andare a dormire la sera, di tutto quello che c'è in mezzo, la storia del nostro pianeta non ha assolutamente niente. Questa era la Terra 4 miliardi e 300 milioni di anni fa. Proviamo a raccontare la storia del nostro pianeta come una giornata di 24 ore che comincia nel momento in cui un grande corpo, si chiamava Theia, impatta sulla Terra e forma la Luna. Quella è la mezzanotte di questo ipotetico giorno che finisce oggi qui alle 9 e mezza della sera. Facciamo questo esercizio insieme. La Terra a mezzanotte era questo, era un oceano di lava che richiese 100 milioni di anni per raffreddarsi. A quell'epoca la Terra era bombardata da ogni genere di relitto di formazione del sistema solare. E questi, in particolare asteroidi e comete, portavano sulla Terra grandi quantità di acqua che formavano le oceani. Nel contempo, l'attività vulcanica sulla Terra riempiva l'atmosfera primigenia di gas dei più vari, ammoniaca, anidride carbonica, solfo, azoto, eccetera. Questi gas, all'epoca, formavano un'atmosfera che a tutt'oggi noi definiremmo irrespirabile. Era veleno. Però questo non ha impedito alla vita di avere la meglio. Infatti, i primi organismi che dopo che la superficie si raffreddò si presentavano sul nostro pianeta erano organismi, si dice, eterotrofi, dei piccoli organismi unicellulari che si nutrivano di quelle molecole che trovavano nelle vicinanze della superficie. Poi successe qualcosa. Successe che l'atmosfera primordiale gradualmente diventò trasparente alla luce del Sole. E quindi le molecole, questi organismi, cominciarono a evolversi in maniera tale che cominciassero a utilizzare la luce del Sole per produrre nutrienti e molecole fortemente energetiche. era nata da fotosintesi e con essa l'atmosfera si riempì di questi due gas. Ossigeno e ozono. L'ossigeno che ci permette di respirare oggi, l'ozono che proteggeva quegli organismi dai raggi ultravioletti e che lo fa ancora. Purtroppo c'è un inconveniente. Quegli organismi non si nutrivano di ossigeno. L'ossigeno allora era veleno per questi organismi. Per la maggior parte di essi che quindi si estinsero. Quelli che rimasero sulla Terra erano gli organismi che erano in grado di respirare. Noi siamo in grado di respirare. E quindi tutta questa storia che ci porta poi all'evoluzione dell'uomo di fatto ci porta agli ultimi due minuti della storia di queste 24 ore immaginarie. L'uomo è comparsa sulla Terra alle 23 e 58 di questo giorno immaginario. Due milioni di anni fa. E si interroga in maniera compiuta sul senso delle cose soltanto da qualche millennio. Cioè da qualche centesimo di secondo in questa giornata di 24 ore. Perché in fondo poi quello che abbiamo capito è che niente, assolutamente niente è stato così come oggi. e questo però lo abbiamo capito solamente negli ultimi pochi centesimi di secondo di queste 24 ore. E quindi siamo arrivati ad adesso. E allora proviamo a ragionare sull'adesso. Vi mostro questa immagine qui. Vorrei vedere cosa c'entra all'adesso. Per parlare di adesso vi parlo dell'aria della nostra atmosfera. Perché un po' è la chiave, il filo conduttore di questa storia. Mi occupo di questo. Quindi come non provare a parlare di atmosfera. La nostra atmosfera assomiglia ad una coperta. Assomiglia ad una coperta e fa esattamente quello che fa una coperta. Noi sul nostro pianeta oggi abbiamo una coperta assolutamente perfetta per la vita. Perché è una coperta spessa abbastanza da tenerci al caldo rispetto al freddo dello spazio interplanetario. e però è sufficientemente e non è troppo spessa da farci soffocare. È trasparente alla luce del sole e quindi ci permette di vedere e ci protegge come vi dicevo dai raggi ultravioletti quindi ci consente di vivere senza la preoccupazione che qualcosa ci bruci. E però proprio come una coperta stavolta basta qualche dettaglio nella tessitura della superficie qualche cosa che una toppa non messa bene per esempio perché sotto quella coperta magari il nostro comfort cambi. Beh, la nostra atmosfera è proprio così. È una coperta con dei dettagli. Questi dettagli sono queste molecole qui. Sono molecole presenti solamente in traccia nella nostra atmosfera. Quella che vedete in alto a sinistra è l'anidride carbonica. Poi c'è il vapore acqueo il metano il biossido di azoto. In comune questi quattro gas hanno che sono gas serra e vi voglio parlare di lei della CO2. La CO2 è presente in atmosfera e in concentrazioni tali che se prendeste 2500 molecole una sarebbe di CO2 le altre 2499 di tutt'altro. Eppure basta questo poco perché la CO2 come altri gas serra modifichino lo spessore di quella coperta in maniera molto significativa. Infatti cambiamenti del 25% della CO2 quindi è un numero ragionevole dal 1960 ad oggi hanno modificato in maniera significativa lo spessore della coperta sotto la quale viviamo. Voglio farvi un altro esempio per farvi capire che cos'è l'equilibrio nella nostra atmosfera questo un caffè tutte le mattine noi prendiamo il caffè beh la tazzina della moca che facciamo la mattina è composta per il 98% di acqua il 2% di quello che beviamo è determinato dalla qualità del caffè eppure quando ne beviamo un caffè tutto il piacere che ne traiamo nel gusto o anche il disgusto se il caffè non è buono viene da quel 2% oggi quello che stiamo facendo è cambiare la composizione di quel caffè la sua acidità lo stiamo facendo in maniera molto veloce ed inesorabile basta cambiare la qualità di questi chicchi perché la nostra vita cambia in fondo tutte le mattine questa è la lezione che impariamo oggi se paragoniamo l'atmosfera a questo caffè lo stiamo inacidendo in maniera molto pericolosa la nostra atmosfera oggi contiene 875 miliardi di tonnellate di CO2 in più rispetto a 60 anni fa 35 miliardi di tonnellate l'anno eppure noi ci viviamo ancora qui sotto però il problema è che il caffè sta diventando sta bruciando e sta diventando anche troppo caro e in fondo se volessimo provare a guardare questa storia capiremmo che il cambiamento che stiamo imprimendo alla nostra vita tramite l'atmosfera è un cambiamento molto veloce perché niente è stato come adesso e niente sarà come sarà domani dopo domani i cambiamenti sono sempre svolti nel corso di milioni di anni in 500 milioni di anni abbiamo vissuto 5 glaciazioni e 5 estinzioni di massa in 60 anni abbiamo cambiato del 25% la composizione dell'atmosfera proviamo a guardare quindi la nostra vita come la storia della terra queste 24 ore come un film beh se guardiamo un film per singoli fotogrammi che cosa facciamo stiamo vedendo quel film per singola immagine non capiamo qual è il senso di quel film nel suo complesso se invece guardiamo quel film troppo velocemente ci troveremo dopo pochi secondi ad un punto nel quale non abbiamo capito assolutamente niente di quello che è successo prima e quindi ne saremmo disorientati in difficoltà e questa è la situazione di difficoltà che viviamo oggi guardando la storia di un pianeta che si evolve troppo velocemente e quindi rapportarsi al cambiamento è qualcosa di complesso di difficile non possiamo prima diceva una cosa bellissima non possiamo accontentarci non possiamo ragionare per stereotipi con frasi del tipo non esiste più la mezza stagione il clima è impazzito ma tanto le previsioni mica le azzeccano il pianeta sta bene anche senza di noi il clima è sempre cambiato ma sì estinguiamoci non possiamo ragionare in questo modo non possiamo affezionarci ad un fotogramma e pensare che un fotogramma sia per sempre e che sia il paradigma di tutta la nostra vita col cambiamento bisogna per forza confrontarsi e questa cosa richiede una grande consapevolezza sapete quando parlo di consapevolezza mi viene in mente una storia mi viene in mente cioè il fatto che la nostra vita se si studiano le scienze planetarie è una grande lezione che si impara è che la nostra vita è frutto del caso ci sono state delle situazioni nel corso della storia della materia che ci circonda che hanno portato le cose ad essere esattamente così per delle circostanze fortunate e questo ci viene in mente nel capirlo in aiuto grazie alla scienza che cosa vi sembra questo qui questo vi racconto un segreto questo non è la terra questo è venere 4 miliardi di anni fa questo paesaggio con dei vulcani dei laghi delle rocce somiglia alla terra vero su venere le cose un giorno sono andate molto male perché a un certo punto sul pianeta si è scatenata una fase di vulcanismo talmente intensa e talmente su scala globale che l'atmosfera è stata riempita di CO2 e CO2 di gas che sono veleno 90 volte più spessa della nostra coperta è quella che circonda venere ed oggi è questo inferno qui 450 gradi alla superficie di giorno 450 gradi di notte è un inferno in fondo questo ci insegna una lezione abbastanza buffa nella sua drammaticità cioè che i vulcani che sono stati una delle cose che ha determinato che è stata importante per la nascita della vita sulla terra è stata la condanna di un altro mondo quindi vedete come sono delicati gli equilibri che reggono il cambiamento beh a proposito di cambiamento noi qui abbiamo questo mondo è un mondo perfetto è un mondo che ci è stato consegnato da un misto tra caso e circostanze ideali è questa la nostra casa e però quando abbiamo cominciato a mandare lì nello spazio robot sonde che osservassero altri mondi abbiamo capito che forse possiamo andare altrove abbiamo cercato di siamo stati quasi ossessionati lo siamo ancora dall'idea di trovare il gemello della terra il primo candidato nella storia che lo è tuttora a essere un posto abitabile è lui Marte qualcuno ha detto che Marte è il nostro primo passo nel diventare una specie interplanetaria la verità però è che ci siamo detti una bugia perché poi abbiamo cominciato a pensare che questo sia la soluzione alla nostra sopravvivenza quindi cercare un mondo altrove sia una soluzione per sopravvivere per sopravvivere al cambiamento di quelle che saranno gli inesorabili variazioni nelle nostre condizioni per esempio del sole ci hanno sempre detto che ce ne dovevamo andare da qui che ce ne dovevamo andare per cercare la nostra felicità per trovare delle condizioni di vita migliori per trovare una casa in fondo quello che ci rende che ci fa sentire bene è sentirci al sicuro abbiamo grande bisogno di sentirci al sicuro perché i cambiamenti quando soprattutto sono cambiamenti veloci ci mettono in crisi e quindi sa pensare che un giorno la terra non sarà più un posto abitabile ci fa pensare che ce ne dobbiamo andare e che dobbiamo cercare una casa altrove la verità però è che questa appunto non è una soluzione alla nostra sopravvivenza spesso ce ne andiamo quanti di voi lo fanno per cercare una vita altrove e poi quando torniamo cosa troviamo troviamo le case che hanno cambiato colore sono state ridipinte rimodellate i nostri i nostri amici che hanno lasciato gli hobby che avevamo in comune e che abbiamo cresciuto insieme i nostri genitori che un po' invecchiati e un po' imbiancati però ci accolgono con lo stesso amore del primo giorno è noi stessi che ci guardiamo allo specchio e ci rendiamo conto che il tempo è passato in fin dei conti anche se noi siamo alla disperata ricerca di un altro mondo oggi 7 dicembre a mezzanotte di mondo abitabile ne conosciamo uno solo e siamo tutti là sopra questa è una foto scattata dalla terra da miliardi di chilometri di distanza siamo tutti là questo è il più grande selfie della storia dell'umanità siamo lì e questo è l'unico mondo che conosciamo e siamo soprattutto terribilmente soli immersi nell'oscurità dell'universo riusciremo a trovare una casa altrove? probabilmente però al momento le distanze che ci separano da quelle case sono incolmabili speriamo davvero che non sia sempre così grazie grazie grazie